Aveva guidato il Policlinico Città di Udine per quasi 30 anni, trasformandolo da piccola clinica privata a struttura sanitaria di riferimento per tutta la regione. Avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 25 aprile, Antonino Agosto se n'è andato all'alba di oggi, proprio al Policlinico, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. Quasi tre mesi fa aveva accusato un malore e non si era mai ripreso completamente. Persona stimata, capace, sempre disponibile anche con i dipendenti, ricorda Fabio Mesaglio, direttore amministrativo del gruppo Policlinico Città di Udine. Ne aveva assunto la guida a inizio anni 90, rimanendone a capo fino al 2020, quasi 30 anni durante i quali il Policlinico è cresciuto, diventando un gruppo con circa 350 tra dipendenti e collaboratori e un fatturato annuo da 50 milioni di euro. Investire per essere all'avanguardia, questa era la sua linea d'azione, ricorda ancora Mesaglio, che chiosa. Sotto la sua presidenza, il Policlinico si è trasformato da clinica privata per una nicchia di persone in struttura accreditata dal Servizio Sanitario Regionale, quindi per tutti e per di più all'avanguardia. Antonino Agosto siedeva ancora nel Consiglio di Amministrazione del gruppo, assieme alla figlia Alessandra, era anche presidente della controllata MyMed e consigliere di Olomed. Residente a Autricesimo, ingegnere di professione negli ultimi anni, si era battuto contro la realizzazione delle rotonde in Viale Venezia, una delle quali proprio di fronte al Policlinico.